Il padre Fabrizio Forti è spento questa notte all'età di 66 anni nella sua stanza al convento di Trento padre Fabrizio Forti, frate francescano fondatore e anima della mensa dei cappuccini e cappellano del carcere. Lo ricordiamo nel servizio di Simone Casciano. Una vita al servizio degli ultimi. Con queste poche parole si potrebbe descrivere l'apostolato di padre Fabrizio Forti, spentosi questa notte nella sua stanza presso il convento di Via Lelastia a causa di un malore. Francescano, fondatore anima della mensa dei cappuccini che dal 1998 ad oggi ha servito più di 500.000 pasti ai poveri e ai bisognosi, padre Forti ha sempre creduto nella missione di porre gli ultimi prima di tutti e prima anche di se stesso senza risparmiarsi mai. Lui era un entusiasta di quello che faceva, della pastorale, credeva nel lavoro e dava assolutamente precedenza agli ultimi della società. Lui era proprio convinto, era pronto anche, anzi rinunciava alle ferie perché diceva se io vado in ferie i miei poveri non hanno da mangiare. Quindi rinunciava alle ferie pur di garantire un pasto caldo ai poveri. La missione di padre Forti lo aveva portato anche a essere cappellano del carcere, proprio per quella sua capacità e sensibilità nell'ascoltare gli altri, i bisognosi. Alla notizia della sua morte sono arrivate subito dichiarazioni di sentito cordoglio dalle più significative figure della provincia, quasi a voler rimarcare l'importanza del padre all'interno della comunità trentina. L'arcivescovo Lauro Tisi ha voluto ricordare come Don Fabrizio abbia raccontato un Dio che non emette giudizi, ma si prende cura di chi fa più fatica. L'onorevole Lorenzo Dell'Ai ha detto che abbiamo tutti un grande debito verso padre Fabrizio e verso quanti come lui tengono vivi e realizzano i principi di umanità e solidarietà. Si è unito al cordoglio anche il presidente della provincia Augorossi che ha dichiarato come la società trentina abbia perso un grande uomo che ha dedicato la propria vita a dare ristore e soccorso. Nel vuoto lasciato dal frate rimane la domanda su chi si prenderà l'honor e la responsabilità di portare avanti la sua missione. Ci siamo proprio posti anche noi questa domanda, chi continuerà l'opera? Perché Fabrizio aveva delle capacità particolari, cioè era capace di entrare in empatia sia con gli ultimi che con la gente che lo ascoltava. Quindi otteneva dei risultati e poi era anche molto fermo, deciso in quello che decideva di fare. Fabrizio aveva delle capacità che pochi hanno, soprattutto aveva una grande comunicativa e un grande entusiasmo nel suo lavoro, nel suo apostolato, sia nelle carceri che nella mensa della providenza. Il suo frate amico, padre Mauro Marasca, conosceva padre Fabrizio Forti dai tempi del noveziato, da sempre coinvolti nell'apostolato verso i poveri, quelli che come unico diritto possono solo lamentarsi. Quasi un centinaio di pasti ogni sera, ieri padre Fabrizio aveva scritto 104, preparati da volontari e messi in tavola per schiere di bisognosi, non solo persone di paesi lontani, anche moltissimi disagiati trentini. Un servizio costante per mettere in tavola non solo cibo per battere la fame, ma anche un piatto di sincerità, la condivisione sempre presente nel menù. Fabrizio ci teneva molto a considerare il povero il signore, cioè era veramente servito dai volontari. I volontari erano al servizio dei poveri, ci teneva molto. Quindi adesso prendere in mano questa responsabilità per portarla avanti sarà un problema. Ma chiaramente sono i superiori che dovranno decidere. Dal convento di Cappuccini il sole lambisce Trento, luce per un saluto, anche per quanti a cena ricorderanno un frate speciale.